Ora faremo una meravigliosa esperienza. A volte danciamo con una persona, ma in realtà questo è una forma di hipnosis. In realtà, camminiamo, possiamo creare il stesso stato, e possiamo creare un stato di hipnosis. Ma, a volte, possiamo creare un'induzione camminando. Fittare un'induzione camminando, è un'induzione camminando. La scena di vento è macrina. La scena di vento è ricostante. La scena di vento è ottimizzato. La scena di vento è riposo. Grazie a tutti. La catalepsia è un stato interno di concentrazione. La catalepsia può aiutare la persona, ma non si può aiutare la sensazione. No, no, no. No, no, no. 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 No.